Ti lascio al tuo talk e a parlarci delle tre P, prezzi, promozione e preventivi. Grazie, volevo solo dire prima di iniziare il mio talk che con un commercialista secondo me non si parla mai a sufficienza, bisognerebbe avere modo di parlarci sempre molto. Sì, parliamo di prezzi, di piano promozionale e di preventivi, quelle che io chiamo le tre P e parliamo innanzitutto di prezzi. E ovviamente faccio una premessa, bisogna avere fatto i conti e ce l'ha ricordato anche Laura poco fa. Però vi porto tre esempi di prezzi che vorrei che mi aiutassero a dimostrarvi una cosa che vi dico tra poco. Il primo esempio è questo, il Time ha messo in vendita un paio di anni fa, anzi no, di più, io col Covid ho perso tutti i conti, una membership che consentiva di accedere ad un programma di formazione accessibile solo su invito a 20.000 euro all'anno. Dava tutta una serie di benefit, ovviamente, però teniamoci in mente questo 20.000. Il secondo esempio che vi porto invece è un volo gratis. Volare sappiamo tutti benissimo che tipo di costi comporti anche da un punto di vista ambientale. Ultimo esempio, una borsa, una borsa, non una borsa qualsiasi, ma una borsa usata in vendita su una notissima piattaforma. Attualmente ho controllato stamattina e ho fatto lo screen proprio stamattina. Questa borsa è in vendita a 323.000 euro e rotti, diciamo quasi 324.000. Vi aggiungo che una decina di giorni fa la quotazione era sui 317.000, quindi ha aumentato il suo valore. Tutto questo per dire cosa? Che in realtà, e poi vi parlo anche di vino e di sassicaia, che vabbè è quasi ora di pranzo, per dire che in realtà fare i prezzi, anzi scusate vendere, è anche una questione di prezzo, ma vendere o non vendere, rispetto al riuscire a vendere bene o non riuscire a vendere bene, in quel caso non è una cosa che dipenda dal prezzo. E ce lo dimostra proprio questo sassicaia, nel senso che, ad esempio, se noi andassimo a pranzo in un ristorante stellato e ordinassimo un pasto super raffinato e ci proponessero di abbinarci un vino pregiato, con tutta la storia che il nome di questo vino si porta dietro, e poi ci dicessero che questa bottiglia costa 30 euro, qualche dubbio sulla qualità di quel vino ci verrebbe. Ho voluto farvi questo esempio sul vino, perché molto spesso in realtà ci viene detto che quando tendiamo a sottovalutare le nostre quotazioni con l'intenzione magari di vendere più facilmente stiamo facendo un errore, ma che cosa poi questo tipo di affermazione significhi realmente? Diventa un po' difficile concretizzarlo nella nostra mente, nella nostra pratica. Ecco, significa questo, i nostri clienti si associano l'idea del prezzo che noi formuliamo con l'idea del valore della nostra erogazione, che si tratti di una consulenza, di un servizio, di un prodotto, no? E quindi, spesso, tenere i prezzi bassi è controproducente proprio per noi, oltre che per la relazione che instauriamo con i nostri clienti. Non solo per il nostro posizionamento. Quindi, io tendo sempre molto a stimolare i miei clienti, le persone con cui parlo in consulenza e informazione, a fare una riflessione sui loro prezzi e tendenzialmente li invito ad alzarli. Mi capita molto più frequentemente di trovare persone che stanno sottovalutando i loro servizi e prodotti, piuttosto che, anzi, credo che in realtà faccio mente locale, ma non mi è mai capitato di trovare qualcuno a cui ho dovuto dire, guarda che il prezzo che hai formulato per questa cosa è troppo alto. Quello che accade molto frequentemente, c'è anche un mio ormai vecchio, anzi, vecchio, no, non mi piace, datato talk al freelance camp in cui parlo di come fare i prezzi e come fare i prezzi giusti. E dico che il principale ostacolo che incontriamo nel momento in cui dobbiamo occuparci di definire i nostri prezzi consegue dal fatto che spesso consideriamo come punto di riferimento il mercato. Ma il mercato, e quindi i nostri competitor, non possono essere un elemento di giudizio rispetto ai prezzi che definiamo noi. perché noi, ognuno di noi è unico e ognuno di noi ha un suo metodo, una sua tecnica, un suo processo lavorativo e quindi non possiamo pensarci confrontabili, non possiamo essere noi, soprattutto, non possiamo essere noi, non dovremmo essere noi a metterci a confronto. Quindi la vendita è una questione di prezzo ma fatturare non dipende dal prezzo e qui vi rimetto l'aeroplanino perché vorrei farvi riflettere sul fatto che davvero Ryanair, cioè una company che si occupa di spostare le persone da un punto all'altro del globo attraverso degli apparecchi volanti, Ryanair regala il suo servizio. Non sempre, ma in alcune occasioni, in alcuni periodi dell'anno, regala il suo servizio. Sono stupidi? Non credo proprio ci hanno costruito un impero. Allora, fare i prezzi è una questione molto più non complicata, ma complessa di quel che possa apparire. E a volte dobbiamo considerare un approccio che sia più stratificato. Per questa ragione vorrei invitarvi a riflettere anche sul vostro piano promozionale perché nel momento in cui ragioniamo sui prezzi che andiamo a definire non possiamo non tenere conto del fatto che potrebbe essere sensato e ragionevole e nella stragrande maggioranza dei casi lo è ragionare su dei listini che sono diversificati e che ci consentono anche di fare degli sconti. Ora, l'obiezione che mi viene rivolta più frequentemente dalle persone a cui io invito a fare questo tipo di riflessione è che sono restie a ragionare sulla propria scontistica e quindi rispetto alla possibilità di offrire degli sconti perché temono che questo si traduca in una perdita di guadagno. Però in realtà ragionare in maniera intelligente, con un'intelligenza anche imprenditoriale quindi con una visione ampia e più a lungo termine in realtà proporre degli sconti e dei listini dedicati a clienti particolari o a clienti ai quali vi rivolgete in un periodo specifico o per una fase specifica dello sviluppo della vostra relazione proporre degli sconti può significare, può tradursi nella possibilità di aumentare i vostri profitti, intanto perché sicuramente vi aiuterà ad attrarre nuovi clienti e poi perché potrebbe rivelarsi come uno strumento che vi aiuta a fidelizzare i clienti che avete già acquisito e magari attraverso di loro ad acquisirne di nuovi. Prima in una stanza si parlava proprio di marketing basato sul passaparola. Ultimo aspetto è quello legato al preventivo perché credo che la maggior parte di noi si occupi di servizi e consulenze ma anche quando in realtà, anche quando facciamo prodotto dovremmo ragionare sul fatto che per esempio magari non creiamo dei preventivi a meno che non ci rivolgiamo a clienti che non fanno un acquisto singolo insomma ma sicuramente nel corso dello sviluppo della nostra attività potremmo trovarci di fronte all'esigenza di fare delle presentazioni dei nostri cataloghi. Allora ragionare bene su come impostare un preventivo significa facilitare e consolidare in realtà tutti i ragionamenti che in precedenza abbiamo costruito calcolando quello che deve essere il nostro obiettivo di fatturato definendo in che modo questo obiettivo di fatturato deve essere ripartito sui nostri diversi progetti può aiutarci a consolidare appunto quell'obiettivo di fatturato perché un preventivo o una presentazione della nostra offerta diventa lo strumento che sintetizza le ragioni attraverso le quali ci distinguiamo e quindi le ragioni per cui le persone si ricordano di noi e ci scelgono tra chiunque altro abbia la possibilità di proporgli ciò che noi facciamo più o meno allo stesso prezzo quindi in questo senso secondo me non solo il preventivo diventa uno strumento preciso di personal branding ma diventa lo strumento che ci aiuta a convertire non si limita a dire che cosa vendiamo ma se lo costruiamo in maniera efficace fornisce ai nostri clienti delle motivazioni specifiche per scegliere esattamente noi quindi per acquistare esattamente da noi e non da nessun altro e io con questo vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto grazie Paola e sono molto d'accordo con le cose che hai raccontato insomma fare i preventivi e farli bene è un modo in cui ci posizioniamo sui preventivi ne abbiamo parlato più volte ci sono talk di Marco Brannilla ci sono talk di Emanuele Centro della scorsa edizione come presentare le proprie offerte e diciamo che alla fine dicono tutti cose molto simili e molto sagge su cui tu sei ritornata oggi ti ringrazio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti